ancora qua siete il pigaro ma non me ne andate mai allora vai avanti c'è ma non ve ne andate mai gira Ale gira vai di dai perché è caduto quello lì pulisci del vetro ogni tanto eh pulisci di davanti eh è giusta l'inclinazione? sì penso di sì quella normale non è in rovi comunque il bis di soppassarti non lo perderà mai nel fiume ti soppassi non lo perderà mai come fa spampi lo butterà e basta dopo mi dice spampi mi ha buttato in terra avrai fatto qualche cagata sicuro è fatto bene è vero che spampi ti butta in terra quando passi che ti butterà vedi che lo dice anche consumi un cazzo oggi di là dobbiamo andare su vai esci da qua dai come va dai la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.